Benvenuti in un altro capitolo di Paraíso Verde di Ataccio Idun. Saludos anche di parte di Suleika. Abbiamo fatto un pape che arriva a Farenz e abbiamo sorpreso anche quando stiamo in finale del programma. Il primo Pape che prende attenzione è un Pape. Si tratta di un Pape che è del genere D'Avalia. Qual è la caratteristica di D'Avalia? D'Avalia è un Pape che si tratta di 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 un pape. E' un'altra cosa importante che si tratta di un pape che si tratta di un pape che si tratta di un pape. E' un'altra cosa importante che sia lunga o corta. E' un'altra cosa importante che si tratta di un pape che si tratta di un pape che si tratta di un pape che si tratta di un pape. maggiare e, un'altra cosa scurita di un pape che si tratta 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 di un pape. ha diversi formi una forma di small, larga una forma di ronde una forma di kersbomb, ovale diversi formi è un acce specificamente che potete vedere è tipo chiamata davalia pinocarpa è davalia pinocarpa ha il riso è una forma di somma è larga e rivela un po' con i capelli in modo anguola con il preto è la largura completa di risomma è una forma di somma e una caratteristica particolare è che ha fatto un totale di 7 somma quindi due somma sono una ala un flujo ha un tipo che si chiama davalia pentafila e se non lo sape è ala nemmeno 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 se non lo sape è un pinocarpa e cacchi di spor che hanno un po' e 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 non lo sape se non lo sape e non lo sape che non lo sape ma ma non lo sape marrone scuro e ora ora vediamo senni senni una tendenza di senni Questa è la forma di guardare la corretta per diventare l'esplice per il bolo. L'esplice per il sport ha tendenza di andare un po' più male che l'esplice senza sport. La città è nativa di Malassia, Indonesia, Nuova Guinea e anche l'Islanda Pacifica. La città è un'esplice in oscilante qui, la prendiamo sicuramente 5 anni per non avere una ronda. La cresce relativamente facile, non è facile per arrivare al mercato, ma è facile senza cuida. La cosa più importante è che la acqua deve andare fuori fuori. E per questo motivo, per questo motivo, non c'è un mercato. La città è grande, non ho guardare, ma poi c'è il mercato. Ora non si muere, ora si muere fuori fuori fuori. In modo che prosegue il riso, 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 il riso. Il riso, il riso, il riso, il riso, il riso. Il riso, il riso, il riso, è un mercato che si muere fuori fuori. e in ogni bando di stengel ha un blattino e la nostra lingua, in maniera carino, è lissimbei lissimbei è lungo e in ogni bando di lissimbei ha il suo pio e il pavimento di lissimbei e il nefrolepis ha un'altra caratteristica e questo è quello di stollons e non di stollons in maniera che la maggior parte delle varie ha un tipo di stollons guarda bene? e stollons è una riazza di emata e la riazza di emata è un piccolo è una forma buona di stollons e il malo è il dente in stollons in questo momento mettere un po' di stollons è una forma di inata nuova sostegno suplante nuova ora lo faccio 3-4 cm lo faccio fuori di mamma e mettere inata su messi in epoca qui puoi vedere quanto c'è è un po' di stollons è un po' di stollons è un po' di stollons con la forma di stollons con la forma di stollons con la forma di stollons e così è la forma qui non è il migliore esempio uno risuono con la riazza di epoca e con la terra è la forma di stollons è un po' di stollons è un po' di stollons è un po' di stollons ma ovviamente potete vedere come ha spore e per aver guardato la brucia è qualcosa di Whatis è un po' di stollon ma qualcosa di più si vorrei di anche le spore non ci sarebbero la brucia e per interpretare un po' di stolline spore in epoca è un po' di stoll. è un po' di spore può di Chiuscocco è un po' di star con un po' di santo e il giro, il botone e bocce, è così, con il fesser. Per il terzo e la grande blanche, e anche nella mia piattaforma, con il fesser. Mi servizia così, con il botone, con il hobby di acqua. Passando le ore, bisogna prendere il sforzo così, ma è il suo lavoro con me di Stolans, per seguirlo a propagare il suo messo. e fare il vostro dilante da un nefrolepis exaltata Rooseveltiae maniera vostro comirà è blattina da Holofope e maniera conoscenza per cuideri, è messa da dentera, umido e seco e maniera ma bisogna coltivare o original di nefrolepis exaltata e il resto del velde è messa la cultura, un'altra varietà è crescita in temperatura di 18-35 gradi guardate che può nascere molto bene in Europa in America tropicale, circa noi, con una temperatura, per lo general, di 30-32 gradi quindi si è diventato bene nel corso e non si è funzionato, per la terra non può non controllare se non prendere le puglie e le puglie e abbiamo ho spiegato in un'altra occasione, ora mettere il terra e guardate ogni tanto tempo ogni 5-6 luni e guardate un pollo di terra Se vorrei riparare che stolli solo, significa che ci sono solo nella terra. Ora che stolli, che viene stolli, vanno a farlo. Come si viene marrone, il blancho non si viene a caire, si viene marrone, e questo significa che non c'è nutriente, non c'è terra per il corso di sviluppo. La nostra corta è nefrolepis, corta con un cucciù, a partire da due o tre colpi di matto. Allora, in caso uno si pone di terra nuovo, e potrebbe tornare buona e viena, 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 viena. Il prossimo farro con il nostro papà è un pollo di cibo, è un pollo di lante. E questo è il genere Microsorum. Microsorum è un tipo di variante, è un tipo di varie che è più grande, una quantità più grande. si pone escezza di forma a uno streppi, non fa' una forma ovale, non fa' Прiccatallo di forma oscena, non fa' tre treci o treci o treci, non fa' Holvi, non fa' una carta, ma è diversa formata. E se uno è un episodio non conoscele, che producirà quanto è diverso di micro-soro una caratteristica particolare di un micro-soro che vi mostro nel capítulo di White House è che si tratta un rizzone estampato da cor se è un po' più largo, quando lo perdono il signo che si tratta di coro di terra quando lo perdono, non si tratta di un micro-soro è un po' più grande, è un micro-soro che è conosciuto come un micro-soro tailandico questo è un po' più basso, è Tailandia e qui si tratta di un po' più mediano sull'occhio è un po' più corto non vi mostro, è un po' più coloro per vedere, perché è un po' più piccolo poi si tratta di un po' più piccolo e un po' più piccolo ma non è un po' più piccolo è un po' più piccolo e la bianca di naturalezza può essere 40 cm largo, ma non è un po' più piccolo ma non è un po' più piccolo che questo è cresciuto poco a poco e la sua temperatura ideal per fare un po' più piccolo è 21 gradi ma non è un po' più piccolo 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 è difficile da guardare nel corso mi piace con poco di clarità e la terra è medio secca e lo che è fantastico è che il blancho è blanco verde ma per la sombra è più blanco verde e ora continua con la clarità e la terra è in grado della nocci e la terra è in grado di un blanco e la birra è in grado di un color florecente e questo è un video che potete vedere con florecente la birra ma era un liceo psychedelico questa è la prima cosa è il preferito di Suleika ma è molto meglio di color blanco verde ma è in grado di color blanco ma è un po' blanco verde ma è lombrante ma è una migliore forma come il microfono di Suleika o di Tailandia ma è un po' blanco lo che passa è il po' blanco se vuoi vedere il po' blanco in grado di Suleika il po' blanco è in grado di Suleika conoscenza di un mato nuovo ma ancora non è possibile importa se ha a vero con la condizione ideale ma è arrivato a 21 gradi disfrutare di una buona varia del microsurro Stray ora ci sono sorpresi abbiamo un visitante nuovo vicino a noi con una varia e questa è una varia e un mato molto bonito con un philadendron non è molto tempo passato se non è possibile con una collezione di un genere nuovo e questa è un philadendron qui c'è un philadendron? il philadendron è un mato che ha un stem con una corda con una corda sia sia sulle come a questo caso o difficile il palo con una corda con una corda non ho in una束ana si fosse un' parello h one qui c'è un' parello e l'altro punto è che la banda di stengel nuovi che sali è che prende anche la raiz in modo di caso qui vedete un stengel con un po' di raiz e anche il flessio come si vedete il flessio nuovo è formato in modo che il flessio nuovo che sali e fuori è un filodendron c'è un po' di filodendron nel mondo questo è un po' che voi guardate a voi è chiamato un filodendron glorioso è scasso, scarso nel mercato è un po' di densità buona taglia è facile e il filodendron glorioso qui piace su terra umido e per noi mostrare la vostra in giallo con il porto c'è ora guardate il flessio non lo so, è molto ora qui per farlo riconoscere però in giallo è un po' di secco la superficie della terra è secca, saca questa stoccia, e se è muore ancora, dopo il bambino d'una è matata l'acqua. Ainda è matata in suficienti acqua per seguir vivi. Se è riuscita questa stoccia è back, il prossimo giorno, se è secca, l'acqua è matata in acqua. Quattro a tre o quattro giorni, dependendo del ambiente che ti mati nella casa, è solo per prendere l'acqua. E, dopo, se sapete come potete attenzione, che mati con l'acqua e non si escoci la stoccia. Voi guardare la stanglia che è gloriosa, è una linea fina, blanca, con una caratteristica particolare dell'acqua. Nel momento in cui il filadendron glorioso saca il blancho nuovo, è colore rosso. E qui, vediamo un'informazione. Questo è rosso, è sale fuori di soffriggio, e quando si arriva, si arriva. Ora si arriva, la cosa più bellissima di matata è colore rosso. E qui si arriva, il blancho è maduro e si arriva, come si arriva verde. Ancora il blancho è un colore rosso. Però il blancho è un po' più maggiore e si arriva rosso rosso con il nervo, aderno con il colore blanco. Ancora il blancho è un colore rosso. E il blancho è un colore rosso. E il blancho è un colore verde, con il patronto è un blancho blanco. Secondo il blancho è maduro, si arriva con il blancho è un colore verde scuro, ma un po' più maggiore. È verde scuro. E con il blancho è un blancho è un colore eccezionalmente bellissimo. E mi piace il colore di misto. E per ogni volta, ogni 2-3 giorni, di filodendron in generale, mi piace il colore di misto. Spesso un po' di acqua, mi piace, mi piace, mi piace di umidità. E nella nostra letteratura, la umidità è di 60-80 gradi Celsius. È messaggio di 1-2 giorni per settimana. Non più che sia. Inoltre è blancho in forma di colore. E inoltre, inoltre è fai del mercato, e è nativo di Colomia. E la maggior parte dei filodendron del mondo che sono viva nella naturalezza, e in America tropicale. Colomia, Amazonas, inoltre, 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 inoltre. inoltre, 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 a disfrutar del capitulo di Awe. Di parte di Suleika mi chiamiamo Masha per avanti con i video qui, ricordate, subscribite a i nostri canali, like anche, e mandate i video per tutti i conoscere i amici, per sospettare la famiglia di paraiso verde del Attaccio Eden cada via più grande. Grazie e al prossimo video.